Ciao a tutti da Vittorio, la telenovela So continua a regalarci emozioni e notizie sorprendenti perché ieri avevamo detto nella serata che il Sevilla sembrava essere adesso in pole position ma oggi le cose sono cambiate di nuovo. Una cosa, prima molti hanno dato retta al giornalista tedesco di Sport1 che ha detto che il direttore sportivo del Sevilla era andato in Germania a trattare direttamente l'acquisto di So. Bene, sembra che in realtà, e ci sono le immagini di stamattina, il direttore sportivo non era in Germania ma era in Spagna, tant'è che oggi è stato visto entrare negli uffici del Sevilla per una riunione importante. Quindi prima cosa non vera smascherata. Poi però ci sono punti di domanda importanti perché ieri sera Di Marzio diceva che Sarri avrebbe chiamato direttamente il giocatore per convincerlo ad accettare la Lazio. Pedulla al contrario ha detto esattamente l'opposto, ovvero che Sarri non avrebbe mai chiamato So per convincerlo di venire alla Lazio. Di Marzio ieri in tarda serata ha annunciato che il giocatore ha detto a Sarri che la sua volontà era quella di andare alla Lazio ma che doveva decidere perché dopo tanti anni in Germania non era convinto di lasciare la Germania. Pedulla ha detto praticamente la stessa cosa dicendo che però non c'era mai stata questa telefonata fra Sarri e So. dicendo che So aveva ancora dato l'ok alla Lazio, che la Lazio era la sua scelta principale ma che doveva riflettere e aveva dei problemi personali da risolvere prima. E quindi che cosa è successo? Quindi non era vero che ieri c'era prima il Sevilla che la Lazio aveva perso terreno? Non lo sapremo mai, però sembra che la Lazio ha l'accordo con il Sevilla e con il calciatore ma il club tedesco e il calciatore non rinviano i documenti firmati alla Lazio e quindi senza firma non si possono prenotare le visite mediche, non si può andare avanti con l'operazione. Secondo gli esperti di calciomercato oggi sarà il giorno decisivo, oggi So dirà sì o no alla Lazio e si concluderà questa telenovela che ci ha intrattenuto per tre giorni. Doveva essere un'operazione lampo chiusa in 24 ore, invece sono passati tre giorni e ancora non sappiamo quali sarà il futuro di So. Ripeto, giocatore importante per la Lazio perché è una posizione che la Lazio ha bisogno di coprire ce ne sono tanti altri come questo giocatore, però insomma è un giocatore interessante è un giocatore esperienza, è un giocatore che sicuramente farebbe comodo alla Lazio. Purtroppo, come spesso accade nell'era di Lotito, tutte le trattative si prolungano in maniera inspiegabile perché, ripeto, sono tre giorni che la Lazio ha l'accordo sia con il calciatore che con il club eppure non arrivano le copie dei contratti firmati. Secondo Di Marzio e Pedullà la Lazio sarebbe la prima scelta del calciatore però il calciatore ancora non ha firmato il contratto. Secondo la Sampa tedesca sarebbe il Siviglia favorito e avrebbe in mano il calciatore però anche lì in realtà non ci sono stati passi avanti perché nessuno ha detto che il Siviglia ha l'accordo col club e con il calciatore nessuno ha detto che So ha deciso di andare al Siviglia per cui continua questa tenere novela che ci sta regalando tre giorni di punti interrogativi di misteri mai risolti. Chissà se poi, settimana prossima, sapremo quello che è veramente successo. Si sa solo che ieri sera molti davano So vicino al Siviglia e oggi ci ritroviamo di nuovo con la Lazio favorita per il centrocampista svizzero. Sarri intanto ai tifosi ha detto che lui si aspetta quattro acquisti per cui vedremo quando arriveranno questi quattro acquisti e se veramente arriveranno alla Lazio quattro acquisti mentre Lutito ha promesso un colpo che ci lascerà tutti gli stucco. Noi aspettiamo ma di questo colpo non si hanno ancora tracce. Ieri la Lazio siamo noi ha detto che potrebbe essere Eden Hazard onestamente ho paura se fosse Hazard perché sì, quello del Chelsea era un grandissimo calciatore ma sono tre anni che Hazard è sparito, è ingrassato non credo che sarebbe un grande colpo per la Lazio anzi potrebbe essere un grande problema per i biancocelesti perché dopo tre anni che non giochi e soprattutto con un fisico non allenato per la Lazio sarebbe un acquisto sbagliatissimo. Però vedremo chi sarà questo acquisto che ci lascerà di stucco e vedremo se So finalmente prenderà la decisione se sceglierà la Lazio se magari resterai all'Eintracht Frankfurt visto che non è convinto di lasciare a Germania o se finirà in Spagna. Tu che ne dici? Scrivimi e metti qua sotto e mi raccomando se ti è piaciuto questo video lasciami un bel mi piace e noi ci rivediamo dopo con un altro video. Ciao! 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 Grazie a tutti.